Carissimi, rieccoci nuovamente in nostra compagnia a parlare naturalmente di auto in grande stile. Io mi trovo nello showroom dedicato a Volkswagen, esattamente da Pastorino a Grugliasco in corso alla mano 48. L'avete sicuramente riconosciuto e attendo con pazienza ancora. Volevo solo ricordarti una cosa. Innamorati di me. Oddio, detto così, di primo acchito, inizio trasmissione non va tanto bene. Per tua moglie e per mio marito? Ma non importa. Innamorati di me non è rivolto tra di noi, ma è rivolto per loro. Innamorati di me, carissimo amico cliente, innamorati della Pastorino perché in Pastorino per questo mese particolare, il mese degli innamorati, abbiamo cercato di trovare un qualche cosettina in più da poter dedicare a tutti quanti voi. Naturalmente dedicato alle autovetture, questo connubio tra piacere di guida, scelta della vostra concessionaria di fiducia e perché no, Pastorino mi sembra che sia oltre 50 anni che sul mercato e di cose ne ha fatte veramente tante. Siamo qui, naturalmente, per continuare a farne altre tante per tantissimi anni, ma ritorniamo allo scopo della trasmissione che è quello di comunicarvi che il mese di febbraio, come mi ha suggerito poc'anzi Sonia, è il mese degli innamorati. Quindi dobbiamo trovare un qualche cosa di particolare e allora abbiamo scelto il cuore, abbiamo scelto il nostro cuore, quindi cercare di dare un qualche cosettina in più a chi? A voi, amici telespettatori, che naturalmente state cercando di trovare la soluzione più idonea alla soluzione del problema della vostra mobilità. Quindi, Pastorino, corso alla mano 48, innamoratevi della vostra nuova Volkswagen. Adesso capisco finalmente perché lui vuole essere sorprendente con me e vuole essere sorprendente anche con voi. Lo slogan è appunto questo, dedicato a questi due porte aperte in corso per i nostri amici che ricordiamo. Dimenticavo, 17-18 febbraio, naturalmente sabato 17 e domenica 18 febbraio, innamoratevi di corso alla mano 48, ma non basta, innamoratevi nuovamente anche di sabato 24 e domenica 25 febbraio. Bene, non di Enzo Bussolino ma della concessionaria Pastorino e di tutto quello che vi offre, una ricca gamma con tante bellissime novità. La puntata è dedicata a loro, vogliamo cominciare? Andiamo. E cominciamo da quella che è definita per antonomasia la cittadina di casa Volkswagen, app comoda, scattante, dinamica, preparatissima per andare in città e non solo. Innamoriamoci di questa nuova Volkswagen app. Amici telespettatori, ancora per tutto il mese di febbraio, qui alla Pastorino, tu a partire da 9.000 euro e anche naturalmente interamente finanziabili a tasso zero. Innamoriamoci anche di Polo. Innamoriamoci di Polo perché, amici, possiamo venire a provare l'entusiasmante versione a metano, ma ricordiamoci che esiste la versione benzina e oggi disponibile in pronta consegna la mitica turbodiesel. E parliamo di Golf, ricca nella gamma anche questa. Innamoriamoci anche di lei. Innamoriamoci di Golf, innamoriamoci di una splendida Golf R disponibile in pronta consegna, quindi entusiasmante nelle sue performance. Una vettura che ha oltre 300 cavalli, quindi venite a vederla, venite a provarla. Sabato 17, domenica 18, sabato 24 e domenica 25. E ricordo che qui in Pastorino abbiamo una serie di vetture appena targate, quindi ritirabili immediatamente. Abbiamo degli allestimenti sportivi GTD con oltre 10.000 euro di risparmio. Innamoriamoci della Pastorino. È vero che con T-Rock nasce un nuovo concetto di crossover, però non dobbiamo dimenticare i SUV. E tu il T-Rock non l'hai ancora provato, vero? Quindi ti invito a venire a provarlo. Naturalmente, se vogliamo invitare anche loro, l'invito è aperto per tutti. Provate questo entusiasmante monovolume compatto perché ha veramente delle prestazioni eccezionali. Il 1115 cavalli, il 1550 cavalli, oppure l'allestimento turbodiesel disponibile in prova. E quindi abbiamo aumentato la gamma dei monovolume compatto, abbiamo aumentato la gamma di questi SUV compatti, che naturalmente ricordiamo che T-Rock è la regina del momento, ma non dimentichiamoci di Tigua, che in questo momento è ancora vostro e disponibile nella versione 1.600 turbodiesel a partire da 26.500 euro, disponibile qui in Pastorino in pronta consegna. La bicicletta naturalmente è un optional, però c'è la possibilità di poter utilizzare veramente questo veicolo per il tempo libero, per il lavoro, per tutto quello che meglio confà le nostre esigenze. Abbiamo naturalmente, oltre ai due monovolumi che abbiamo appena elencato, per famiglie un pochettino più numerose, oppure per chi ha la necessità di avere un pochettino più di spazio a bordo, Charan disponibile in pronta consegna, e alcuni elementi, alcune vetture disponibili ancora di Volkswagen Touareg. E poi, ricordiamo, visto che sono presenti, la protezione pneumatici, il fatto che possiamo affrontare ogni danno con un sorriso, perché con l'acquisto e il montaggio di pneumatici nuovi avete la possibilità di beneficiare, senza alcun costo aggiuntivo, dell'assicurazione sugli pneumatici. Sì, perché qui alla Pastorino avete la possibilità di ritirare un treno o di ruote o di pneumatici estivi, chiamiamoli così, o invernali, e naturalmente beneficiare fino a 36 mesi di una polizza rottura. Cosa significa nel particolare? Che se acquistate un pneumatico qui alla Pastorino e per qualsiasi motivo c'è un danno occidentale, una rottura, venite nuovamente qui da noi, vi sostituiamo senza alcun costo il pneumatico danneggiato. Mi piacciono le iniziative di Pastorino, il mese dedicato agli innamorati, e quindi lo slogan coniato per l'occasione. Sono tante le novità per quanto riguarda la gamma Volkswagen, ma non dimentichiamo la boutique delle occasioni. La boutique delle occasioni perché la Pastorino è specializzata nella rivendita di vetture particolari. Le vetture particolari sono delle vetture d'occasione, ma ricordo che la vettura d'occasione è solo quella, quindi possiamo trovare delle vetture simili, possiamo trovare delle vetture con le stesse caratteristiche, ma diversa rispetto a questa, perché è solo ed esclusivamente questa, quindi è unica. Quindi venite a scegliere in una delle cinque sale dedicata all'esposizione delle vetture d'occasione. Trovate assieme a me o ai miei colleghi la vettura che più confà le vostre esigenze, ma soprattutto chiedeteci la prova su strada. Sì, perché noi vogliamo farvi provare la vostra nuova futura vettura d'occasione per capire se effettivamente insieme a voi può essere la vettura che più a voi interessa. Poi ovviamente possiamo sederci, accomodarci e stilare un preventivo, ma naturalmente approfittare di tutte quelle che sono le offerte di acquisto che sono a voi dedicate per questo mese degli innamorati. Quindi innamoratevi di quello che può essere la vostra nuova vettura d'occasione, ma sceglietela con cura. Il tempo c'è a disposizione, abbiamo aggiunto due porte aperte nel mese di febbraio, quindi domenica 18 e domenica 25 febbraio siamo a vostra completa disposizione per farvi innamorare della vostra nuova autovettura. Ricordo che la garanzia dell'auto è come minimo 24 mesi, ma possiamo con una piccola somma in più, che molte volte potrebbe essere anche argomento di trattativa, aggiungere un ulteriore anno di garanzia. Quindi chilometraggio certificato, garanzia di acquistare una vettura con certi requisiti, perché no? Corso alla mano 48, Pastorino. Bene, esaustivo e competente come sempre, hai detto di tutto di più, mi piacerebbe sottolineare che questa è una grande sede, è una sede che ha anche l'assistenza e che è il vostro fiore all'occhiello e che merita ricordare anche questo punto di vista, insomma. Innamoratevi anche del nostro service, della nostra famosa ormai carrozzeria, perché abbiamo la possibilità di poter darvi la soluzione della mobilità con una vettura di cortesia e ripararvi la vostra auto nei tempi necessari per poter ottenere un lavoro d'alta qualità. Insomma, il vostro obiettivo è quello proprio di soddisfare il cliente in toto al 100% prima dell'acquisto, durante l'acquisto e anche dopo l'acquisto. Come vuol fare appunto la Pastorino e come lo fa da tanti anni. Io ti ringrazio, alla prossima. Grazie a te. Innamoratevi naturalmente della Pastorino, perché ricordo che la Volkswagen a Torino è Pastorino.